La verità è che siamo fra i primi, a volte siamo proprio i primissimi a mettere le mani sui nuovi dispositivi high-tech, quindi probabilmente tutti voi starete pensando che la nostra redazione è super tecnologica, all'avanguardia, ma non è sempre così. Per esempio, cosa pensereste se vi dicessi che fino a qualche settimana fa per organizzare il lavoro utilizzavamo una lavagnetta di questo tipo, proprio una lavagnetta di quelle che ci sono anche in casa, con la spugnetta, i pennarelli cancellabili. Ebbene, l'occasione per svecchiare un po' questo modo di lavorare l'abbiamo avuta anche noi, perché da qualche settimana stiamo provando questo dispositivo che vedete qui, si chiama Samsung Flip. L'abbiamo visto personalmente durante un viaggio in Corea, proprio da Samsung, ce ne siamo un po' innamorati, e abbiamo detto perché non la usiamo anche noi, vediamo un po' come va a cambiare il nostro modo di lavorare. Ecco, ve lo racconterò in questo video che fa il punto non tanto sugli aspetti tecnici che troverete in descrizione, ma un po' sul dietro le quinte di HDblog, come nasce, come viene costruito un video, proprio grazie a uno strumento di questo tipo. La prima cosa che facciamo qui in HDblog, come immagino in tutte le aziende, è organizzarci la settimana, e per farlo lo facciamo in una maniera molto molto classica. Apriamo una pagina nuova, segniamo tutti i giorni della settimana, e per ciascun giorno scriviamo, insomma, quello che sarà il video che andremo a pubblicare. Magari vi chiederete, ma non esiste già un'agenda predefinita? La risposta è che per questo modello ancora non si può. Si può, semmai, importare un template e lì scriverci il contenuto. Però, dobbiamo essere sinceri, ci piace un po' questa cosa di scrivere alla lavagna. È vero, fa un po' maestrino, ma siamo tutti qui a darci una mano, e quindi non c'è il rischio di avere proprio una classe con gli alunni e il professore. Uno degli aspetti più divertenti di questo lavoro, che poi è un lavoro di team, è, diciamo, il brainstorming sui dispositivi. Sì, perché dovete sapere che quando facciamo una recensione un po' ci confrontiamo, e allora cerchiamo di mettere in luce tutti gli aspetti determinanti di quel prodotto. E per ciascuno di questi aspetti proviamo a dare il parere positivo, semaforo verde, semaforo rosso, che è poi quello che vedete poi nelle recensioni quando andiamo a fare i pro e i contro. Diciamo, il dibattito è aperto, cerchiamo ognuno di dire la sua e di trovare, insomma, un po' la quadra, la quadra condivisa. Dovete sapere però che una volta che viene girato, il video viene poi rivisto. E questa è una fase molto critica, perché quando si gira non si ha mai la percezione di come sia avvenuto realmente, se il video sia coinvolgente, se siamo riusciti a dire tutte le cose che c'erano da dire. Allora, qui interviene la fase di revisione. Noi proiettiamo letteralmente il video che è ancora grezzo sulla lavagna flip e andiamo a trovare, insomma, quelle criticità che magari poi andiamo a tagliare in fase di post-produzione. È un lavoro che facciamo qui, ma che condividiamo anche in remoto. Per esempio con Niccolò, che come sapete bene si trova a Cagliari. Magari andiamo a fare proprio degli screenshot direttamente dalla lavagna e poi andiamo a condividerli con lui o tramite NAS o direttamente inviandoli via mail. Le funzioni di condivisione sono abbastanza semplici. Tutto sommato ci sono tra l'altro vari modi che ci permettono, insomma, di interagire dal PC. Possiamo collegarlo direttamente attraverso una presa HDMI oppure utilizzare il Miracast di Windows. Per i dispositivi Apple invece è necessario un Apple TV e quindi da lì utilizzare AirPlay. In realtà la modalità che preferisco io sinceramente è quella direttamente da smartphone. È in particolare uno smartphone Android dotato di NFC. Già, perché attraverso il semplice avvicinamento del dispositivo sulla lavagna abbiamo la possibilità di condividere esattamente ciò che vediamo sullo smartphone sulla lavagna. Poi da lì sarà abbastanza semplice effettuare uno screenshot e poi condividerlo, come dicevo, attraverso una email o un dispositivo connesso in rete. Tra l'altro la parte interessante della condivisione via smartphone è che tutti i comandi, anche quelli touch del telefono, vengono replicati sulla lavagna. Quindi sarà possibile letteralmente effettuare uno scroll, andare a interagire con le singole pagine o addirittura inserire il testo nei campi chiave. Ovviamente io la sto facendo molto, molto sintetica, ma la realtà è che questo è tutto un processo abbastanza lungo e che nel mentre succedono anche tante cose. E, per esempio, c'è un pacco da ritirare, allora in questo caso sarà necessario mettere un avviso che tutta la redazione possa guardare affinché questo pacco venga ritirato al momento giusto e dalla persona giusta. E poi ci sono magari anche dei piccoli archivi che noi diciamo che li teniamo un po' segreti perché possiamo bloccarli da una password. Ad esempio abbiamo una lista della spesa che facciamo mensilmente e che cerchiamo un attimo di preparare con cura. Adesso, per esempio, stiamo mandando questa lista della spesa dei prodotti per i test TV. Nicolò non lo sa, probabilmente lo verrà a sapere adesso, che insomma sarà una lista abbastanza costosa. E per inciso c'è anche un po' il tempo libero perché va bene lavorare, però ogni tanto ci concediamo una piccola pausa e ad esempio andiamo a organizzare il calcetto fra di noi facendo addirittura la formazione in campo. E insomma, poi veniamo al momento che è il più bello, posso dirlo? Il momento più bello perché è quello in cui tutto il nostro lavoro poi va in rete ed è quello più adrenalinico, no? Perché c'è il contatto con voi che siete i nostri lettori che spesso ci giudicate con molti apprezzamenti, a volte ci bacchettate, ma e questo è insomma il bello di chi fa il nostro mestiere e semplicemente si accede direttamente al canale YouTube, ai nostri video e si va insomma a vedere soprattutto quelle che sono le interazioni con gli utenti. Beh, insomma, avete visto come lavoriamo, non so se ci ritenete all'avanguardia o ancora un po' retro, di sicuro ci stiamo impegnando per migliorarci rispetto alla lavagnetta che avete visto all'inizio e un prodotto come questo sicuramente ci è d'aiuto, migliorabile, sì sicuramente migliorabile perché per esempio ci piacerebbe avere un browser integrato e anche la possibilità di effettuare delle video call in diretta per coinvolgere insomma tutti i ragazzi di HDBlock che non sono qui a Milano ma comunque Samsung ci ha detto che ci sono in arrivo altre flip, quindi versioni più evolute, arriveranno anche aggiornamenti software, poi ci sono sempre anche gli integratori di terze parti che possono fare delle modifiche un po' ad hoc del dispositivo. Cosa dirvi di più? Beh, che questo è anche un prodotto che è portatile, i ragazzi tra l'altro mi hanno appena detto che non si può stare in questa redazione perché è veramente ingombrante col piedistallo, io ho promesso che avrei messo una staffa per collegarlo al muro perché c'è questa possibilità ma ancora non l'ho fatto, quindi mi spiace ma dovranno scavalcare per andare alla loro postazione. Per il momento è tutto, vi invito a mettere un like a questo video, ovviamente se vi è piaciuto, a lasciare i vostri commenti sempre in maniera educata e garbata. Da Roberto per il momento, ciao e ci vediamo presto.